L'abbiamo fatta! Ma davvero vuoi andare? Non puoi fermarti ancora un po'? No, mi spiace tanto! Fermati! Aspetta un secondo! Trattienila ancora troppo presto! Qualcosa non va, Suneo? No, no, è tutto a posto, tranquillo! Senti, non vorresti che ti lucidassi le scarpe? No, non serve, grazie! Ah, stavolta sono proprio fritto! Ehi, non avete toccato la mia auto? No, signore! Ah, la macchina è ritornata! A proposito, Suneo, ti va di fare un giretto con me? No, grazie, ho da fare con i miei amici! Come vuoi! Allora ci vediamo presto, ciao! Ah, ci è mancato poco! Aiuto, la mia macchina si è divisa in due! Fermatemi! Allora ci vediamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.